Dopo la fine della relazione con Perla, Mirko Brunetti torna al centro dell'attenzione con dichiarazioni incisive Mirko Brunetti, noto per la sua partecipazione a Temptation Island e Grande Fratello, ha recentemente rotto il silenzio sulla sua situazione attuale, dopo la fine della relazione con Perla a Vatiero La separazione è stata attribuita a diversi fattori, inclusa l'influenza della famiglia di Perla, che avrebbe avuto un ruolo cruciale nella decisione di allontanarsi Ma la notizia che sta facendo più scalpore riguarda il possibile futuro di Mirko a uomini e donne Si parla infatti di un suo possibile ingresso come tronista nel celebre programma di Maria De Filippi Le voci indicano che Brunetti potrebbe aver già sostenuto un provino per il ruolo, anche se non è ancora chiaro se sia stato effettivamente scelto Nel frattempo, Perla sembra intenzionata a ricominciare la sua vita altrove, cercando casa a Milano, mentre Mirko continua a navigare nel mondo dello spettacolo, suscitando grande curiosità su quale sarà il suo prossimo passo Uomini e donne, la candidatura di Mirko Brunetti come tronista Secondo recenti indiscrezioni, Mirko sarebbe stato proposto come tronista per la prossima edizione di Uomini e donne, ma pare che questa idea non sia stata accolta con entusiasmo dalla padrona di casa del celebre dating show di Canale 5 Maria De Filippi, che ha sempre mostrato grande attenzione nella scelta dei tronisti per il suo programma, Noon sarebbe stata particolarmente felice della candidatura di Brunetti La conduttrice è nota per il suo approccio meticoloso e per la cura con cui seleziona i protagonisti del suo show, e pare che il profilo di Mirko Noon rispecchi del tutto le aspettative e gli standard da lei ricercati Mirko Brunetti è divenuto noto al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, dove ha vissuto momenti intensi e controversi che lo hanno reso un personaggio discusso Il suo percorso all'interno del reality ha suscitato molte reazioni, sia positive che negative, e la sua figura è rimasta impressa a chi segue questo tipo di programmi Le motivazioni dietro il presunto scetticismo di Maria De Filippi potrebbero essere varie Innanzitutto, la conduttrice potrebbe ritenere che il personaggio di Mirko Noon porti quel valore aggiunto che cerca per mantenere alto l'interesse del pubblico Inoltre, il background di Mirko, caratterizzato da dinamiche che potrebbero risultare già viste o non del tutto genuine, potrebbe non coincidere con la direzione che Maria De Filippi vuole dare al suo programma, sempre in bilico tra spettacolo e autenticità Nonostante queste indiscrezioni, non è ancora certo quale sarà il destino di Mirko Brunetti in relazione al trono di uomini e donne Ma nel frattempo arriva la risposta glaciale, Deyanira Marzano ha chiarito ancora una volta la situazione L'esperta di gossip ha mandato un messaggio a Mirko per dimostrargli il suo dispiacere per quanto fosse successo, così la risposta di Mirko non si è fatta attendere, mostrando tutto il suo affetto alla donna In ogni caso, la notizia ha già creato grande fermento tra i fan, che ora attendono con curiosità di scoprire quali saranno i prossimi tronisti e come si evolveranno le dinamiche all'interno del programma più seguito di Mediaset